Ben tornato ho visto le signore che mormoravano quando lo vedono Dicono tutte che belom, che belom Difettucci o servizio? Difettucci Difettucci vediamo dai Chi non ha un difettucci Quello di Venere ti dà uno sguardo strano S? Strabismo E dicono sia molto sexy nelle donne Io sono d'accordo I piedi che definiscono i poliziotti I piedi Piatti Quella giovanile colpisce la pelle dei teenager Acne Ed arancia quella che ti può venire per colpa della cellulite Agli uomini no B Buccia Viene alle donne Piccolo difetto della pelle che la mormoraveva vicino alla bocca N Ne ho anche pernalisi Così è detto l'alluce quando è rivolto verso le altre dita V Valvo Quelle di gallina sono delle rughe Z Dopo vediamo Z di gallina Zampe Zampe La calvizie che colpisce le tempie S Vedo che ti stai ispirando Ma no Temperatura Però scusate L'abbiamo distratto con quel gong negativo sulla sesta Lui ha detto alluce Valvo Valvo Ah no Allora è Valgo Valgo Va bene Il giovane Edoardo che mi ha chiesto un autografo per una bambina Come si chiama quella bambina? Carlotta Carlotta Che dice che non fa la pappa se non mi vede Va bene È così Ecco Da me e da Edoardo buona pappa Allora di Fettucci Di Fettucci Quello di Venere ti dà uno sguardo strano L'S Strabismo Strabismo I piedi che definiscono i poliziotti I piedi Piatti Quella giovanile ti colpisce in adolescenza La A La A La A Passaparola Tu non l'hai mai avuta magari Va bene È d'arancia quella che ti può venire con la cellulite La B È un difetto femminile purtroppo La buccia La La buccia Piccolo difetto della pelle Che la Monroe aveva ai lati della bocca N Neo Ma non è un difetto secondo me Così è detto l'alluce Quando è rivolto verso Valgo Valgo Quelle di gallina sono delle rughe Z Zampe La calvizie che colpisce le tempie S Stempiamento Bastava dire stempiatura Stempiatura Sono contento perché è finito in parità Rea Sei pari